Qui siamo in una vecchia galleria con dei tribunari di legno e dei bei fiori di calcare e diamo a vedere se ci sono ancora e abbiamo messo su di stivali adesso proviamo a entrare se non c'è l'acqua alta vediamo sempre zona del minerone ecco entriamo piano piano iniziamo a trovare l'acqua primi binari di legno adesso procediamo sui binari ok l'acqua è limpidissima l'acqua è limpidissima l'acqua è limpidissima si troviamo gli altri binari l'angolazione degli altri binari che lì era nel 1700 dove viaggiava il carrello e via proseguiamo ci vediamo adesso l'acqua è finita consideriamo qui quello che rimane dei binari di legno e vediamo a vedere se troviamo ancora il filone di calcare che i suoi visitori se nessuno è venuto a prenderli qui si nota dove hanno tirato via il filone al contrario di quella che avevo visitato prima che non si notava niente qui si vede proprio il filone di origione al contrario lo spessore quasi 30 centimetri di filone che tiravano via passaggio difficoltoso ecco vincenzo che scende e via qui sono le stalantite che si vede una volta c'erano dei bei fiori che ho fatto delle fotografie circa dieci anni fa adesso vediamo se dentro ci sono ancora guardate qui la goccia dell'acqua stalantite di calcio fioranti a qui Sì Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS e revisione a cura di QTSS Questo è un gioiello delle nostre miniere d'oro del Monte Rosa Non è oro ma è bello tanto quanto l'oro Guarda qua Ora che vei che bestial è ora che bello Stiamo arrivando al fondo della viñera Dopo 200 metri camminato in mezzo all'acqua sui binari vecchi Qui c'è un zampillo d'acqua Guardate come zampilla fuori bene l'acqua E tutta quest'acqua qui inizia a far che ci sia dentro 70 cm d'acqua dalla galleria Per filoni che si è esaurito Esaurito filoni però questa galleria qui è bella per i fiori di calcare che ci sono dentro Questo è un spettacolo Spettacolo della natura Proprio veramente bello Ci laviamo le mani E via Peccato che non si può bene Veramente Bravo Vincenzo Un'altra bellissima miniera Dell'oro del Monte Rosa Ok adesso ci avviamo a uscire verso l'uscita Va bene Senza bagnarsi i piedi Speriamo Speriamo Non come prima Ok Saluti Adesso vi facciamo provare il buio della miniera Spegniamo un attimo le luci E vedete Qui è il buio completo Se spegnete le luci uno che resta senza luce in miniera Deve fermarsi e stare più fermo perché non si vada da nessuna parte Adesso riaccendiamo le luci Fa quasi impressione Fa quasi impressione Va bene Però come dice Vincenzo Nella miniera non si è mai da soli quando si entra C'è sempre qualcuno Usciamo? Ciao a tutti